C'è un'altra cosa, non stai a dirmi cosa smarrumis perché hai l'oste di virus dai mo dai mo, un pochino di leggeria, sull'anima, dai Eh? C'è un'altra cosa che mi hai detto? Ah, bello chi è, che i nostri giovani sono succedenti, che potendo essere un'altra cosa, come un'altra cosa e bello poi, stai a casa e mi fanno un'altra cosa Stai a vedere? Faccio che ho venuto di cura dai vecchi, faccio che non saranno anche noi vecchi ma sono ridotto una società che fa discorso del tipo Eh, ma non capiscono mai i vecchi è una società che è destinata al falimento la bontà di una società sicchiale dal rispetto che è poi i vecchi Pensate all'Indianstropp che vennerà a venire i vecchi, eh? Non c'è credo di sei di manco Veno di sei di manco Dai mo dai mo Milano che vengono questa lingua e questa tradizione squissata di troppo Dai mo dai mo Allora ciao di Dio, Sio Beh, che questo non è una disgrazione ma è una benedizione perché ho vinto il tempo di stare a casa ho vinto il tempo di fermarsi in un momento di pensare e di stringere virtualmente tutti i furlanci che sono attori e di pensare alla roba che ha un serio valore che non sono i vicini, no? Non è l'economia, no? Non è diventata famosa, no? Non è un buon lavoro, no? Non è mettere i mili crani su internet, no? Il valore sono gli affiesti e rispetti per queste altre persone e il valore è il tempo il tempo che tu hai per farvi scelta il cuore in base a ciò che tu sei e ciò che tu sassi di sei Allora devo prendere questo tempo e che nemmeno magari tricchi, 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 tricchi invece di scrivere i monadi su quel osti di internet lei devo prendere l'ardulente del computer per sgaffare fuori un po' di storie furlane, eh? Un po' di tradizioni furlane di musica allegra e dell'estriente, eh? Magari un po' di storie del patriarcato di Aquilei che non si fa male visto che siamo in un periodo quasi dal 3 avril e sarebbe una figata proprio te che il 3 avril la festa dei furlansi non si può tornare ora e che sia definito il virus dai, io mi auguro ad ogni modo non resta ancora non vengono, perché i furlansi sono la piedata dure, eh? o vengono, terremi, guerri non sono affermati stessi preso a vedere i monadi di tornare a partire allora non stai a vedere il marone tirai furla di onde e sorridi su questo dio su una roba buttai fuori dal barcone un po' di bandiere furlani che mi piace di dire qualcosa di un esempio di bandiere italiana poi c'è questa patente ma, occhio, che sta patente del mondo allora mettiamo al centro le nostre bandiere che è rossa e che è blu le bandiere furlane, ok? tu hai alcun esempio di mettere l'Italia e il mondo c'è questo plasma ci rendi di sentirsi un po' fradi in questa disgrazia che non si fa nulla male magari di dopo che l'internet per ascoltare un po' di musica furlane che sono tanti artisti come me che danno la vita per questo allora furlans non stai tamarumissi e ho preso questa benedizione del virus per cercare robi sbieli per sgarfare ai vostri ricordi in tutte le robi sbieli che ho visto e cerchi di giuntali come se fossi una stella un curisenne sflanderà il cuore sempre di poi con robi sbieli mettessi a lei qualche poesia qualche piccolo libro si credeva a creare ogni cosa può aiutare che altre cose e aveva fuori un bel pignarul un bel pignarul di leggeria perché non furlans giovani o vecchi artisti o non artisti aveva un gusto di sei leggeri se allora fuori dal barcone e aveva le bandiere furlane e che allora ha detto bene c'è un bel nuovo messaggio ma dove te l'ang sarebbe figo di avere il barcone con niente che chianti con i miei messaggi con i miei positivi perché. Dublin anche se blocchiamo il pulmon spesso pari di esprimiti i furlane non ti vaffa di essere furlane non ti vaffa di esprimersi non lo iudicare perché anche da lei ti faccia un tag di nervosismo che ti blocca il pulmon allora io non so che lei non è fermato se l'inquinamento se la natura ma se lei fatto questo come un periodo di pausa allora lo prenderò in maniera ORV per pensare a lei perché non è limitato al miglioramento secondo me. Di scemo, di cocai, si arriva ad essere un'intelligenza leggendo quei libri, no? leggendo anche. D'intelligenza dopo la curva, vivendo bene in profondità e in armonia con la tua gente, tu puoi diventare un po' moralmente più santo. E c'è solo. Un domani agno, un domani serafino, un domani d'oggi di Dio, c'è solo io. Non è mai limitato al miglioramento. Non stai a avere limiti all'allegria, all'agione. Furlanz! Fuarce Friul! Io non ti dico che stai a casa, perché ho visto che coscienza e falo di persone. Ti dico il nome Fuarce Friul Furlanz! Fuarce Friul!